Giudice di pace, la politica dell'Alto di Reno Cosentino, senza distinzione di partito, dice no al trasferimento della sede di Scalea a Paola. È un coro unanime quello che si leva all'indomani dell'appello lanciato dal sindaco Pasquale Basile. Il PDL cittadino, l'UDC e il Partito Democratico si schierano senza sé e senza mai in difesa dell'ufficio. Un impegno che tutti dichiarano di voler assumere affinché l'ufficio non venga chiuso, come invece prevede il piano varato l'11 gennaio dal governo Monti, che vuole accorpare le sedi di Scalea, Belvedere, Cetraro e Amantea a Paola. L'ufficio del giudice di pace di Scalea, scrive in una nota a Giuseppe Forestieri, coordinatore del PDL locale, rappresenta un vero e proprio presidio dello Stato, un importante segnale di legalità. La decisione di trasferire tale realtà per motivi economici ci rattrista. Faremo la nostra parte, conclude, per evitare l'ennesimo taglio ad un'area sempre più penalizzata. Fronte comune dunque per la revisione della norma. Questi uffici, sostengono dall'UDC, hanno un carico di lavoro davvero imponente e se davvero si volesse fare un discorso solo di numeri dovrebbe rimanere ed essere anche rafforzato nell'organico. Una chiusura che provocherebbe non pochi disagi, non solo in termini di spostamento. L'alternativa proposta per il mantenimento degli uffici, proseguono dall'UDC ponendolo a carico dei comuni, è eccessivamente onerosa per i cittadini che vedranno aumentare i tributi. E anche il PD di Scalea sottolinea il trattamento di sfavore per i cittadini dell'Alto Tirreno che già subiscono gli effetti della crisi e la penalizzazione di questa area non fa altro che peggiorare una situazione già abbastanza grave.